Ecco qua, l'autoblindo a ore 12, apro il capello, bersaglio colpito! Attacco Martiglieria, coordinate Delta, 4 Carro armato, a ore 10, in prossimità Carro armato, a ore 11, in prossimità Prepararsi per l'ascensione del motore Reservite Carro armato, a ore 11, in prossimità Grazie 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 Cosa sta di colpite? Sì, sono presa l'audience. Speed point. Cosa sta di colpite? Cosa sta di colpite? Cosa sta di colpite? Non funzionare. Cosa sta di colpite? Trasfezione è già legata! Il motore è in chiamme! Un po' molto più avanti Non funzionare. Cosa sta di colpite? Prima! Cari, cari! colpito 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 Oh, grazie. Oh, grazie. Oh, grazie. Oh, grazie. The wide forces have captured a zone Perfetto, io colpito I'm done Caricardo Our victory is near Caricardo Bersaglio colpito Siamo stati colpiti Siamo stati con l'anima Siamo stati colpiti Siamo stati colpiti Mettere Bliolarsi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.